abbiamo visto in express che noi dobbiamo definire dei path per ogni url che vogliamo matchare tra la richiesta fatta in un browser per esempio e la richiesta che dobbiamo gestire ora noi possiamo inventarci un modo un formato per scrivere queste url che va bene oppure utilizzare qualcosa di diciamo così un po più standard e questo qualcosa un po più standard per cui scrivere delle url e soprattutto quale metodo applicare a quale url per fare che cosa è rest allora qual è l'obiettivo di rest rest innanzitutto è uno stile di architettura software per un sistema distribuito non è un linguaggio di programmazione non è un'architettura particolare è proprio uno stile che definisce come che definisce alcuni concetti e come lavorare con questi concetti facciamo un cenno su rest perché ovviamente non è il grosso del non è l'obiettivo no del corso però visto che dobbiamo scrivere dei path e conviene scrivere dei path in un formato che sia accettabile e ragiona e ragionevole per il 2020 allora qual è l'idea di rest l'idea di rest è che noi da una parte abbiamo delle applicazioni per esempio le single page application ma potremmo anche avere delle applicazioni mobile e da un'altra parte da un'altra parte abbiamo dei server web abbiamo dei servizi abbiamo dei database e vorremmo trovare una lingua franca per far sì che questa applicazione parli con questi vari servizi con questi database in una maniera più o meno uniforme in modo che davvero ognuno non si inventi una url diversa e che non lo so una get su una certa url mi restituisce tutte le proprietà di questo servizio e una get su un url simile me ne restituisce solo alcune di un altro servizio e che invece per avere tutte le proprietà di un terzo servizio devo fare una post a url molto molto complicata e molto molto lunga ma avere un qualcosa qui che mi definiscono al linguaggio una lingua franca per dire ok questa applicazione vuole accedere alcune cose da qui non mi interessa esattamente come lo implementate ma vorrei definire questo linguaggio questa lingua franca e questa lingua franca e questo rest che sta per representational state transfer che come vi dicevo è uno stile di architetture software per sistemi distribuiti che noi adesso andiamo a vedere calato su http alcune proprietà rest la prima di tutte che è indipendente dalla pass dal piattaforma quindi non ci interessa se il server unix servizio quello a se il browser e il client oppure se abbiamo un'applicazione mobile o quant'altro è dato che uno stile indipendente me indipendente dal linguaggio si può realizzare un server rest un servizio rest in c sharp si può realizzare in java si può avere un'applicazione android che utilizza rest che utilizza un server rest scritto in un altro linguaggio di programmazione e così via ed è basato sui su standard funziona quello che andiamo a vedere è mappato su http quindi su richieste http e dato che è mappato su http può essere utilizzato tranquillamente anche in presenza di firewall o altre limitazioni o altri ostacoli anche in parte perché di nuovo non è un linguaggio non è l'architettura è uno stile di architettura e software l'idea principale di rest è quella di dire tutto è una risorsa e che cos'è una risorsa una risorsa può essere tutto quello che può avere un'identità un documento può essere una risorsa un'immagine può essere una risorsa il metto di oggi può essere una risorsa i corsi universitari possono essere una collezione di risorse le persone possono essere delle risorse e così via c'è una risorsa è un mapping concettuale a un'entità o un insieme una collezione di entità non necessariamente a quella specifica istanza dell'entità una risorsa è il meteo non è oggi piove una risorsa è un documento non è il documento word che si chiama xyz una risorsa è gli utenti del sito non necessariamente l'utente che si chiama luigi e ha fatto login l'ultima volta alle 5 di pomeriggio su quel sito una risorsa è concettualmente l'insieme diciamo la strazione di quello che vogliamo rappresentare e queste risorse sono quelle che ci astraggono in un certo senso i servizi dati in un database in qualcosa che la nostra applicazione può digerire l'applicazione nel nostro caso sarà un frontend web ma potrebbe anche essere un server web chiederà ai vari database a vari servizi non ci interessa tanto più alcune risorse per favore dammi i tuoi utenti servizio 1 dammi i tuoi utenti database dammi i tuoi utenti la risorsa è sempre utente e in rest la risorsa è veramente la cosa importante fondamentale tutto si ruota intorno al concetto di risorsa la risorsa è la sorgente di un'informazione specifica e rest fa un mapping molto molto stretto tra le risorse e le url come andremo a vedere a brevissimo e secondo stile rest il client quindi le applicazioni che avevamo in alto in quella figura e i servizi server e database che sono erano in basso scambiano delle rappresentazioni di quella risorsa e ovviamente dato che sono rappresentazioni la stessa risorsa può avere diverse rappresentazioni sia per servizi diversi sia all'interno di uno stesso servizio e che cos'è la rappresentazione la rappresentazione e come quella risorsa viene appunto rappresentata fornita tra il server e client e questa rappresentazione può essere per esempio html o può essere json o può essere xml un servizio potrebbe fornirmi la stessa risorsa utente numero 1 con id 15 per esempio utente con id 15 in formato xml quindi il nome e il cognome in questo formato il nome e il cognome in formato json il nome e il cognome in formato html ora prima di andare avanti a parlare di risorse diamo un'occhiata cos'è questo json json è un formato di scambio dati è essenzialmente un file testuale che è una sintassi che è un sotto insieme della sintassi di javascript per gli oggetti literali quindi molto molto simile a quello che scriveresti in un oggetto javascript è facile da leggere facile da partificare per le macchine dato che è molto simile a javascript praticamente javascript di default sa come leggere scrivere e manipolare dei dei json senza alcun problema basta dirgli questo è un json e lui e javascript riesce a recuperare le informazioni da quel json e in realtà dato che è così simile a javascript è in realtà anche uno standard ecma 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 la stessa interi standardizzazione che che genera l'ecma script quindi javascript ed è anche un rfc quando viene utilizzato su http ha come media type application slash json allora qual è la struttura logica di un file json di nuovo un file di testo adesso vediamo un esempio abbiamo alcuni tipi primitivi stringhe numeri oggetti array vero falso null le stringhe devono utilizzare le doppie virgolette obbligatoriamente se non sono valide non sono riconosciute come valide di questi oggetti primitivi ce ne sono alcuni che sono composti tipo l'oggetto e l'array l'array è una lista ordinata di valori che iniziano con parentesi quadre valore virgola un altro valore virgola un altro valore parentesi quadre e gli oggetti invece sono coppie di chiave valore quindi parentesi graffe stringa due punti valore virgola stringa due punti valore virgola esattamente come scritti in maniera molto molto simile l'array javascript e agli oggetti javascript che già noi conosciamo di nuovo con la differenza che le chiavi sono stringhe devono per forza essere stringhe e devono essere avere le virgolette davanti le doppie virgolette tra di loro il valore sia questo che questo può essere a loro volta un'altra stringa può essere un numero 15 può essere un altro oggetto può essere un array quindi potremmo avere un oggetto che ha come chiave esami due punti un array potrebbe essere vero true potrebbe essere forse potrebbe essere nulla e questo è un esempio di json molto molto semplice vedete un json è un file che inizia con una inizia con delle parentesi graffe in questo caso questo è un unico oggetto json che ha come chiave first name una stringa e come valore di questa stringa john poi ha un cognome che smith e queste sono coppie nome valore di una di un oggetto poi questo oggetto anche un indirizzo e il valore di questo indirizzo è a sua volta un oggetto un oggetto che ha a sua volta chiave valore chiave valore chiave valore e anche un codice postale che è di tipo 121 vedete che 121 non ha le virgolette perché questo è un numero potremmo anche avere un aperte virgolette valid due punti true se è ancora un indirizzo valido per il nostro utente poi dopo questa coppia chiave valore c'è un'altra virgola e c'è un'altra chiave phone numbers che contiene stavolta degli array un array di stringhe questa volta quindi numeri di telefono associati a questo signor john smith che abita sulla seconda strada numero 21 a new york quindi essenzialmente è testo è un file di testo che potete scrivere anche voi e che si può generare in molto molto semplice da javascript o da altri linguaggi di programmazione in quanto è un sottinsieme di javascript ma nel mondo web e nel mondo di programmazione è attualmente molto molto utilizzato anche per soprattutto per cose di configurazione pensate al package.json che si crea con npm init è un json anche quello è scritto in questo formato e quindi è una modalità di scambio dati non ci sono tag stilistici non ci sono tag che dicono tag semantici ci sono solo informazioni che se vogliono passare in vari formati in array in oggetti combinando cose e così via questo è un riassunto di quello che abbiamo visto prima con una precisazione che la stringa può essere qualunque carattere unicode tranne ovviamente le virgolette doppie o gli slash o dei caratteri di controllo se vogliamo inserire delle virgolette doppie degli slash dobbiamo inserire uno slash come escaping e a quel punto possiamo scrivere aperte virgolette slash aperte virgolette come parte della stringa oppure slash b per rappresentare un backspace slash n per rappresentare una new line e quant'altro allo stesso modo i numeri possono essere possono avere un segno può essere più o zero possono avere delle digit possono avere un punto possono avere una e minuscolo maiuscola nel caso sia un esponenziale e poi di nuovo avere un esponente quindi possiamo scrivere 15 possiamo scrivere 15.5 possiamo scrivere 15.5 elevato alla meno 14 e questo non è una stringa ma è riconosciuto correttamente come numero come usiamo i json in javascript lo possiamo fare in due modi principalmente uno è con il metodo stringify che prende un oggetto javascript e lo converte in un json come fosse una stringa quindi const string uguale json punto stringify oggetto e questo è un oggetto javascript normale questo metodo converte questo oggetto in una rappresentazione json di formato testuale e questo stringify funziona anche ricorsivamente per cui se dentro questo oggetto c'è un altro oggetto all'interno del quale c'è un array chiamandolo sull'oggetto principale tutto viene convertito in json tranne ovviamente i metodi che questo oggetto potrebbe avere perché questo oggetto potrebbe rappresentare una classe vera dei metodi quindi tutte le proprietà che non sono metodi vengono convertite in json il duale quindi stringify prende un oggetto e lo converte in json testuale da un json testuale a un oggetto javascript che poi si può manipolare si può andare a fare my object punto first name per esempio e si utilizza il metodo parse come il metodo stringify prendeva l'oggetto e restituiva una stringa che era in formato json il metodo parse prende una stringa in formato json e restituisce un oggetto questi oggetti creati hanno come object prototype come prototype object quindi l'oggetto classico plain in javascript allora torniamo sulle risorse e su rest abbiamo detto che le risorse sono mappate su delle url che li identificano e hanno rappresentazione in json ma quali url che poi il punto che più ci interessa e quale rappresentazione abbiamo detto usiamo json e ovviamente la rappresentazione dipenderà dal tipo della risorsa se dobbiamo rappresentare una persona magari avremo nella rappresentazione nome cognome e quant'altro quindi abbiamo una risorsa persona e che è rappresentata in un certo modo in base a come questa persona memorizzata in questi servizi e poi abbiamo una url che identifica questa risorsa come scriviamo una url e come recuperiamo queste risorse in rest abbiamo due tipi di risorsa la prima è una collezione che rappresenta un insieme di risorse dello stesso tipo slash resources plurale per esempio http api.unupo.it slash students dove la risorsa è student e questi sono tanti studenti oppure courses dove la risorsa è corso e questi sono tanti corsi se abbiamo una collezione abbiamo anche poi la rappresentazione di una singola risorsa con le sue proprietà allora a quel punto avremo students che è la collezione slash l'identificativo univoco della stessa della del singolo studente così come corsi abbiamo 0 1 xp e pq che è l'identificativo univoco del singolo corso messo a disposizione da questo server le informazioni di questo s 1 2 3 4 5 studente di questo corso il cui codice è 0 1 x q p saranno poi rappresentati in json ovviamente saranno diverse tra studente e corsi quindi rest si basa su questi concetti abbiamo tante risorse come url slash l'id della singola risorsa quindi studenti slash l'identificatore dello studente corsi slash l'id del corso esami slash l'id dell'esame e così via per definire come chiamare queste risorse usiamo nomi sempre nomi ma i verbi usiamo i nomi plurali per la collezione perché ovviamente poi andremo a prenderne uno di quelle risorse nella collezione e usiamo nomi concreti parliamo di corsi parliamo di persone parliamo di esami non parliamo di oggetti generici le risorse ovviamente supportano delle operazioni possiamo aggiungere una risorsa possiamo cancellare una risorsa possiamo aggiornare una risorsa e quant'altro quindi abbiamo le risorse abbiamo le url su queste risorse che verranno rappresentate in json abbiamo delle operazioni l'applicazione vuole aggiungere una risorsa a questo servizio l'applicazione vuole recuperare la risorsa studenti da questo servizio e così via e come sono mappate queste operazioni con queste url in rest sono mappate sui metodi http get recupera le informazioni quali informazioni get di una collezione recupera la lista di tutti gli oggetti di quella collezione get sull'elemento sulla singola risorsa quindi studenti slash 15 recupera le proprietà dello studente con matricola 15 della collezione studenti quindi get recupera informazioni o dell'intera collezione o di una singola risorsa post crea una nuova risorsa put aggiorna un elemento specifico nella singola risorsa e delete cancella una risorsa quindi utilizziamo i metodi http per fare le nostre operazioni esempio abbiamo la risorsa slash dogs quindi i cani una get ci dà la lista di tutti i cani per esempio di un canile una post ci permette di creare una nuova cane all'interno di quel canile una put potrebbe aggiornare tutti i cani di quel canile una proprietà di tutti i cani di quel canile una proprietà di tutti i cani di quel canile ed è da evitare ed è una delete potrebbe cancellare tutti i cani memorizzati in quel canile che di nuovo queste due sono ammesse da rest ma in pratica evitate come la peste e se invece abbiamo come risorsa dogs slash l'identificativo di un singolo cane la get ci mostrerà le informazioni per il cane con id 1234 la post su questo indirizzo ci darà errore perché la post crea solo sulla collezione la put aggiornerà il cane con id 1234 se esiste e la delete cancellerà le informazioni relative al cane 1234 in rest poi possiamo anche avere relazioni nelle url e nelle risorse per esempio noi potremmo prendere tutti i corsi che lo studente con matricola 1 2 3 4 5 sta seguendo e quindi scriveremo students slash la matricola dello studente slash courses oppure potremmo prendere tutti gli studenti che sono iscritti al corso identificato da s 17 29 la collezione corsi il singolo corso gli studenti del corso nel primo caso abbiamo tutti gli studenti un singolo studente i corsi eseguiti da quel singolo studente le rappresentazioni sono tipicamente ritornati in get ovviamente e mandate in post e put e sono possibili diversi formati principalmente viene utilizzato json ma anche altri formati un'immagine potrebbe essere restituita da una chiamata rest non è vietato i formati possono essere specificati tipicamente sono specificati nell'header della richiesta nell'header http della richiesta come accept application json nel caso del json per esempio più raramente come estensione come parametro praticamente sempre come header nella richiesta se volete qui ci sono un po di esempi di applicazioni di di api rest di servizi che spongono le loro informazioni in secondo rest due sono di google e un twitter e l'altro github giusto per vedere che è usato no questa questa rappresentazione nel mondo si possono ovviamente anche fare ricerche più complesse sulle risorse e questo si fanno con punto di do con i parametri quindi con con le query quindi punto di domanda qualcosa uguale e commerciale qualcosa altro uguale eccetera come abbiamo visto per quelle url di di express poco fa gli errori come si gestiscono gli errori si gestiscono con i codici http quindi se ne facciamo una post scusate una get a studenti slash l'id di uno studente questo studente non esiste dobbiamo restituire un 404 perché stiamo utilizzando http e quindi sfruttiamo tutto http e questo è un riassunto delle linee guida che abbiamo detto quindi le collezioni i nomi plurali l'identità l'id sono messe dopo la collezione le associazioni si possono fare in questo modo i metodi che si utilizzano sono post get put delete e è meglio utilizzare nomi concreti invece che nomi generici eccetera 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 queste due tabelle riassumono un po le linee guida noi useremo queste scriveremo delle pier est delle url rest in formato rest con il loro metodo http associato nel nostro esempio di express per permettere la prossima settimana la comunicazione tra il server e il client che abbiamo realizzato la settimana scorsa